Chiedo di ripristinare il nucleo anti-vraiter. La proposta, anzi la richiesta, è firmata dal consigliere d'opposizione del comune di Como, Sergio Gaddi, che ha presentato un'interrogazione al sindaco Mario Lucini. Un tema delicato. Se infatti la piaga dei vraiter è decisamente peggiorata in città, ieri l'ultimo sfregio in Piazza Gobetti, lo strumento che chiede Gaddi, il nucleo anti-vraiter in borghese della polizia locale, venne smantellato dopo un tragico episodio nel 2006. Al termine di un inseguimento, uno degli agenti in borghese controllò un ragazzo, Rumesh Raygama. Dalla pistola d'ordinanza partì un proiettile che colpì il giovane in testa. Rumesh si salvò, ma la ferita gli lasciò pesanti segni. Dopo quel drammatico episodio, il nucleo anti-vraiter venne sciolto. L'incidente fu una deplorevole disgrazia, dice oggi Gaddi, ma non per questo si deve eliminare uno strumento che può funzionare bene. Oltretutto, un nucleo di polizia locale in borghese può funzionare da deterrente per quei vandali figli di papà che si divertono a rovesciare vasi e strappare piante in centro. Secondo Gaddi, alla base della sicurezza c'è una città animata. Meno vita uguale più pericolo è un'equazione, dice l'ex assessore alla cultura, ma contro vraiter e vandali ci vuole repressione e controllo. Respinge però la proposta di Gaddi Marcello Iantorno, assessore comunale alla sicurezza. La costituzione di un nucleo di polizia locale contro gli imbrattatori è una proposta fuori dalla realtà, dice Iantorno, inutile e forviante perché il territorio cittadino è attualmente controllato in modo adeguato da tutte le forze di polizia. Pur senza dover ricordare gli esiti e le gesta del nucleo istituito della giunta Bruni nel 2006, continuo agliantorno, attualmente le forze di polizia sono impegnate in città in tutte le ore del giorno e della notte. Decisiva, conclude l'assessore, è la collaborazione dei cittadini che devono segnalare subito ogni episodio di vandalismo.